Ciao a tutti ragazzi, sono DJ Razelix e bentornati su Uncharted 4. Oggi vi parlerò di un trofeo nascosto, stiamo parlando del trofeo a tavoletta. Per ottenere questo trofeo, per prima cosa dobbiamo dirigerci al capitolo 17, e in particolar modo alla parte in cui Nathan ed Elena devono raggiungere il fuoristrada. Per ottenere questo trofeo, infatti, dovete appunto raggiungere il fuoristrada e riuscire a fuggire con esso fino alla parte in cui non c'è alcun nemico, senza appunto colpire nessun nemico, né ucciderlo, e ovviamente ragazzi non dovete morire nemmeno voi, se non ripartirete dal punto di salvataggio. Detto questo ragazzi vi lascio al video, che mostra appunto come io ho ottenuto questo trofeo. Per rendervi le cose più semplici ragazzi, ovviamente, fatelo a esploratore, perché gli nemici vi vedono molto di meno, c'è il simbolino che vi dice quando vi hanno visto, diventa giallo quando diciamo hanno dei dubbi, e rosso invece quando vanno beccato. A parte questo ragazzi, se vi vedono non importa, l'importante è che non li colpite e riuscite a scappare. Detta quest'ultima premessa, ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me fino adesso, quindi grazie per l'attenzione, e ci risentiamo al prossimo trofeo di Uncharted 4. Ciao! Ciao! Potremmo salire in auto e infilarcelo per qui Vale la pena provare Vale la pena provare Elena Merda Fermali Toglio la sua testa Toglio la sua testa Toglio la sua testa